Su fratelli, su compagni, su venite in fitta spiera, su una libera bandiera, splende il sol della felì. Nelle pene e nell'insulto ci spingemmo il muto patto, la gran casa del riscatto, di un mila e buona. E infine, a furia di pellegrinare di cantiere in cantiere e di insistere di farsi vedere, risalì sui ponti. L'importante, anche se fosse durato poco, era tornare in squadra sotto impresa che poi, quando c'è lavoro, ti manda a chiamare. Era la stessa impresa alle cui dipendenze era entrato otto anni prima, aiuto manovale, e che ora aveva in opera un lotto di case nella zona del Romito. Le assunzioni, insieme al caporale, le faceva personalmente l'impresario, che dirigeva anche i lavori. Si ricordò di lui, o almeno così, dette a vedere, e lo qualificò, senz'altro, muratore. «Occupati di politica se sei di quelli che se ne occupano, ma lontano dal cantiere. Qui, lo sai, si rende cento, e chi non rende cento si trova un'altra impresa», gli disse l'ingegner Badolati. «Ci siamo intesi?» Ero un uomo ormai anziano, stempiato, e col cappello sempre buttato all'indietro. Era magro, alto, e non era aguzzino. Stava sui ponti da mattina a sera, la fatica la sapeva giudicare. Quando si copriva il tetto, offriva il pranzo. Lui si sedeva a capotavola, e c'era vino abbastanza, volendo per potersi ubriacare. Era venuto su dal nulla, e si diceva era pur sempre il padrone, ed era, d'altronde, la verità, che avesse case e case in città, la villa al mare e una fattoria in Casentino, grande da viverci venti famiglie di contadini. Di più, di più, suo padre era stato caporale. Molti lo ricordavano ancora, e la sua memoria non aiutava certo a voler bene al padrone. Aveva finito di arricchirsi coi lavori del nuovo centro, nell'appalto dei quali aveva avuto la parte del leone. Tutto grazie alla moglie, si diceva, forte di conoscenze in comune, siccome da ragazza faceva Niccolini. Ma Niccolini, di quinto o sesto grado, senza più blasone, o forse addirittura figlia di qualche serva riconosciuta come naturale. Tuttavia questo non toglieva granché alla stima che si portava l'ingegnere. I suoi caporali al solito erano molto più iene di lui. Pagava il massimo di salario, e non gli si poteva rimproverare come una colpa sua personale, se con questo massimo, trenta centesimi l'ora, a chi aveva famiglia, restasse poco da scialare. Limitandosi al pane, che negli ultimi tempi si era messa a fare le cabriole, per comprarne un chilo bisognava lavorare un quarto di giornata. Metello era solo e capace di fare economia più di quanto non gli fosse di già necessario. Intanto aveva lasciato il retro bottega di pestelli e dormiva nella baracca al lato del cantiere, coi compagni di lavoro che abitavano in campagna e tornavano a casa una volta alla settimana. Su uno strato di truccioli o di balle, o su un pezzo di panconcello, lo preferiva. Era ugualmente duro, ma la sfoglia del legno, siccome era d'estate, buttava meno calore. Meglio del letto di pestelli, non c'era paragone. Comunque aveva di che essergli grato al vecchio pestelli che adesso si trovava all'ospedale, questa volta non per finzione. L'artrite l'aveva preso non alle gambe o alle braccia, ma al cuore. E facendo durare un sigaro tre giorni, mangiando asciutto anche la sera, bevendo due decimi in tutta la giornata e mettendo in mezzo al pane, invece di trippe o frittata, polpette e fiori di zucca comperate in rosticeria, dopo tre settimane c'era tornato al lavoro. Poteva affittare nuovamente una camera ammobiliata. Staccava le sei e tra lavarsi e vestirsi dei panni da cristiano, le otto lo trovavano ancora davanti allo specchio a raviarsi i capelli e la stanchezza c'era. C'era anche che gli piaceva quando avesse potuto, presto avrebbe potuto, andare a sentire l'opera dallo giome del pagliano o lo stornello di Niccoli al teatro Goldoni. Diradò sempre di più le sue visite alla camera del lavoro. Ripigliava a fiato appena allora, dopo anni di incudine, gli ci voleva qualche distrazione. Ed era maggiormente persuaso, poteva parlare con una certa esperienza della sua antica regola di vita, mai essere né il primo né l'ultimo a farsi avanti o a tirarsi indietro. Ce l'avrebbero dovuto costringere le circostanze. Ora, prima di addormentarsi, leggeva il manifesto dei comunisti e si proponeva di mandarla a memoria. Comprò su una bancarella e i lavoratori del mare la Divina Commedia, tutte cose da leggersi e studiare. Sei mesi dopo, in settembre, poteva farsi un vestito nuovo che un poco alla volta avrebbe finito di pagare. Con testa domenica, come al solito, andò a trovare Pestelli all'ospedale. Aveva in tasca un toscano e nascosto sotto la camicia una bottiglia di vino. Ma Pestelli non ne doveva approfittare. Era morto il mercoledì e adesso si trovava sotto terra almeno da cento ore. Gli infermieri gli dissero che aveva avuto delle onoranze che non si sarebbe mai sognato. La salma era stata rivestita nell'uniforme di Garibaldino. Oh, davvero Firenze era piccina ma si poteva lo stesso sparire e per sempre senza che ti chiedesse gli occhi un vero amico. Come Betto come Pestelli erano trascorsi dieci anni dal giorno in cui Metello era passato sotto porta alla croce arrestandosi in piazza del mercato e di già dei ricordi lo rattristavano più di quanti il suo spirito ne avrebbe desiderati. Era settembre e fuori l'ospedale c'era un gran sole. Andò alla fortezza del Basso dove si trovavano gli stessi soldati della villa comunale le stesse cameriere le stesse balie con le carrozzine malgrado non fossero il suo tipo e gli sentiva ad aver bisogno di parlare con una donna e intrattenersi con lei su tutt'altre cose che non fossero la politica il lavoro la scomparsa di un amico. Quella era la scelta che più facilmente gli si offriva il giardino le panchine la vasca in mezzo coi pesci rossi argento aveva il suo vestito nuovo e lo sapeva portare era in grado di scegliere fior da fiore un'istruttrice una tedesca dai denti di cavallo e due occhi grandi e chiari chiari richiamò la sua attenzione giovane da sembrare adolescente ma di certo non lo era i suoi capelli chiusi sotto il velo azzurro che le ricadeva dietro le spalle non si potevano vedere ma il seno seppur mortificato sotto la divisa non riusciva nascondersi il se sapeva l'italiano a suo modo ma ci si capiva e aveva libero quel pomeriggio della domenica la consumarono insieme dentro i canneti del mugnone là dove da una parte c'è la strada afferrata e dall'altra le cascine e la diceva gut gut e rovesciava gli occhi come stesse per morirgli tra le mani fu bello ma gli fece impressione dandole appuntamento per la domenica successiva egli era certo di dover di non dover di dover mancare c'erano tante figliole attorno al romito e dalle parti di rifredi basta cercarle le occasioni egli era partito da cosetta per arrivare a ilse ma soprattutto aveva contato viola dal greto della sieve ai canneti del mugnone la sua educazione sentimentale ne aveva fatto del cammino se in avanti o all'indietro non avrebbe saputo dire ne sapeva ancora che l'occasione quella vera avrebbe portato su i capelli e in viso i colori di San Frediano da un certo giorno accanto a Metello troveremo Ersilia non durò molto il tempo spensierato nemmeno un anno e ora si profilava la disoccupazione già nel cantiere si incominciava a licenziare certi badilanti e manovali come alcuni muratori specializzati nelle fondamente e negli scalini non servivano più i lavori assunti in appalto dall'ingegner Padolati per conto della fondiaria 14 mesi prima stavano almeno riguardo la parte in muratura per essere ultimati era un lotto di 6 case di 4 piani e si era proceduto a edificare due immobili alla volta a turnipiedri squadra al completo e ritmo accelerato nei primi due consegnati in ottobre c'era di già gli inquilini erano state aperte una macelleria e una canova e i due ultimi avevano raggiunto il terzo piano per cui tra un mese coperti che fossero non sarebbe restato per spolverarsi le mani il resto era compito di falegnami di decoratori e di trombai che ora stavano rifinendo il quarto fabbricato quel sabato sera era novembre e il sole non finiva di scendere dai ponti che era tramontato l'ingegnere li aveva riuniti e fatte le paghe gli aveva detto che chi pensava di potersi occupare altrove non si lasciasse sfuggire l'occasione non voglio sacrificare nessuno aveva detto nell'altro cantiere che ho alle cure posti non ce n'è sono al completo e per il momento non ho in vista altri lavori sedeva al tavolo tra le cataste d'assie di mattoni fuori lo sgabuzzino della direzione aveva il cappello all'indietro come al solito e i tre quarti col bavero di pelliccia sul tavolo c'era acceso l'acetilene tirava un po' di vento e la fiammella sfrigolava loro stavano a semicerchio davanti al tavolo con le mani in tasca o le braccia conserte erano una trentina due o tre manovali non ancora di leva e il più vecchio di tutti i renzoni aveva lavorato sotto Giuseppe Poggi alla mattonaia quarant'anni prima in piedi a fianco dell'ingegnere c'era Madì il caporale che faceva cenni d'assenso via via che il padrone parlava ora l'ingegnere diceva non avrei nessun dovere ma siccome con la maggior parte di voi ci si conosce da un pezzo vi voglio spiegare come sta la situazione lavori in vista non me ne mancano ma col vento che tira vedi e si interruppe accennando l'acetilene tra poco ci si spenge anche il carburo sollevò appena un mormorio che avrebbe dovuto essere di larità appoggiò i gomiti sul tavolo congiunse le mani riprese è una situazione complicata ragazzi quando vado per stringere un contratto sia la fondiaria sia la magona sia l'immobiliare mi dicono che è meglio rimandare anche il nuovo stabilimento per passigli a cui si doveva mettere mano finito qui è rimandato era tutto pronto progetti visti bolli le forniture di materiale assicurate se non che passigli ci vuol pensare su altri sei mesi me l'ha fatto sapere l'altra mattina giudichiamoli come vogliamo è gente che non vuol correre dei rischi sono rimasti scottati con crispi anche se ci hanno trovato il tornaconto e ora vogliono vedere in faccia questi di rudini e questi pelù li hanno messi su loro e prima li vogliono pesare ma anche voi altri escamò dico voi altri per dire i socialisti tanto più o meno siete tutti della stessa tinta quelli che vi comandano fanno certe bischerate turati minaccia pescetti poi qualcuno mormorò non si capì cosa né chi fosse stato egli si interruppe e poi chiese cosa c'è sentiamo fuori che ha parlato gridò madì l'ingegnere lo riprese calma madì calma hanno bene il diritto di parlare non gli sto mica dando la notizia di un aumento di salario tiro fuori di tasca a mezzo toscano e l'accese sporgendosi sulla fiamma dell'acetilene allora ragazzi avanti ripete ma intervenne il renzoni con i suoi capelli bianchi la sua giacchetta corta il fagottino sotto il braccio e la cicca spenta in mezzo alle labbra va davanti lei ingegnere vuoti il nappo ora si si levò dal gruppo una distinta risata che non di meno subito si spense l'ingegnere continuò ma dimenticandosi della disgressione e tornando in argomento la mia opinione è che si tratti di una cosa passeggera malgrado il momento sia un po' scuro c'è troppo risveglio per potersi fermare si va verso uno sviluppo industriale che non ne abbiamo nemmeno l'idea e l'edilizia per forza di cose dovrà avere la sua parte forse è soltanto questione di mesi superato questo strizzone le fornace non ripareranno a cuocere mattoni ragion per cui ragazzi tra 5 o 6 settimane magari pochi alla volta vedrò di fare il possibile ma vi dovrò licenziare se nel frattempo le cose si sistemano meglio per tutti ho voluto avvisarvi in tempo perché avete delle famiglie sulle spalle io la notte voglio dormire tranquillo ci si vede lunedì concluse e si alzò in piedi ma come si alzò lui si alzò una voce dal gruppo dei muratori distinta questa ancora un po' arrocchita e precisa che disse bravo ingegnere dovrebbero fare deputato lei con cotesta parlantina colui che aveva parlato quinto tallesi venne avanti qualche passo verso il tavolo ingegnere non si è mica offeso l'avrei a sapere di che panni vesti se tu non fossi l'anarchico che sei a quest'ora con la tua capacità invece di averti come muratore ti avrei come concorrente e forse ti chiederei di far tutta una ditta l'aveva presa a braccetto erano adesso nel gruppo dei muratori e in questa atmosfera creata dalla condiscendenza del padrone le frasi aggressive feroci che si scambiarono sembravano perdere la loro sanguinosità e acquistare il senso di una reciproca amichevole presa in giro la capacità disse Pallesi io l'ho tutta nelle mani e nella zucca no soltanto la spendi male anche se da un po' di tempo ti sei calmato già ma mentre a lei basta un discorsino per andare a letto tranquillo io non so come dormirei se fossi uno sfruttatore un ladro pari suo i muratori attorno ridevano Mettello rideva Renzoni rideva lo stesso Madì rideva ma proprio per questo le parole in apparenza svelenite risuonavano nell'intimo di ciascuno di quegli uomini cariche del loro più esatto significato sì buono Pallesi se non esistesse la gente come me morireste tutti di fame escluso te e qualche altro mosca bianca il resto cosa siete cosa sapete fare tolti dal vostro lavoro avete bisogno bisogno del poppatoio non vi sapete togliere un dito dal sedere dica culo che lo sa dire quando durante il giorno lei sale sui ponti e le sembra che noi che non si coli abbastanza sudore o che il freddo non ci abbia rotto le mani perché non parla allora pulito oh bella perché vi pago per sudare e non voglio essere messo in mezzo eh quanto vi durerà esclamò pallesi lo so che tu ci vorresti mettere tutti al muro o meglio una bomba sotto i piedi ma bada perfino a capo del governo c'è un generale e del resto un tempo a Parigi stavano per mettere te al muro ora pallesi cambiò voce disse questo è un tasto che non si deve toccare si erano tutti zittiti e siccome passo dopo passo erano arrivati dinnanzi alla macelleria e alla canova a quella poca luce si potevano vedere i visi metello stava di fronte a pallesi e lo guardava era come lo scoprisse soltanto allora questo anarchico sulla sulla cinquantina di cui tutti avevano grande considerazione e con il quale non appartenendo alla sua squadra i suoi rapporti si erano limitati al saluto Bruno dalle tempie brizzolate ma forse era calcina il viso segnato il corpo esile e uno sguardo di bontà e di fuoco insieme dentro gli occhi neri gli ricordò Betto ma un Betto giovanile saldo non ottenebrato dal vino e attese guardandolo un attimo da quell'improvviso silenzio poteva nascere una rissa una ben diversa discussione parlò madì e disse sei stato tu Pallesi a incominciare a mancare di rispetto all'ingegnere sta giusto tu talpa lo inceneri Pallesi lascia parlare il padrone e subito l'ingegnere intervenne e disse ragazzi è sabato lo sapete che si fa vi offro da bere era una canova poteva vendere vino soltanto a fiaschi ma appunto dei fiaschi ne occorreva e lo stesso si rimediarono cinque o sei bicchieri sufficienti a fare il giro l'ingegnere offerse per primo a Renzoni siccome era più vecchio tieni il nappo gli disse e queste parole bastarono a finir di disperdere la caligine poi alzò il bicchiere verso Pallesi che ricambiò il suo gesto si sorridevano ancora cordiali ironici al loro modo di sfidandosi e portandosi stima uomini entrambi naturalmente più forti intelligenti e iniziati rispetto agli altri che li circondavano alla tua comune Pallesi al suo generale ingegnere ma chi fa la guerra al macinato e c'è un'alba simile a mille altre che hai visto nel corso della tua vita con la luce che è grigia e lentamente si schiara e si colora e da prima è celeste non rosa e poi rosa quindi in un baleno da dietro il poggi sbuca il sole e il cielo investito da tanta luce sembra scattare più in alto tutto quanto accade con questo giorno non potrà mai trapassare dalla memoria è il giorno in cui a nostra insaputa la nostra vita si volta come si volta sul palmo il dorso della mano quel lunedì Mettello si avviava verso il cantiere era l'alba e attraverso il ponte sul Mugnone all'altezza del Romito istintivamente si voltò e questa fu la sua impressione come se spuntando il sole qualcosa che fino allora tratteneva il cielo ne lo avesse liberato e precipitasse zavorra di luce diciamo sulla terra un istante riprese il cammino e dopo qualche passo se ne era dimenticato ma era un sole d'inverno presto lo seppellirono le nubi dalle cime di monte senario e dall'incontro gli corsero addosso grandi nuvole nere e prima che i muratori potessero salire sui ponti si scatenò il temporale durò forse mezz'ora e il sole non riapparle cessata la pioggia il cielo era adesso tutto bianco compatto essi via via che erano arrivati avevano trovato riparo sotto la tettoia dove erano conservati i sacchi di cemento i telai delle fenestre i carrelli le stoie e in mezzo avevano acceso un fuoco così gli uomini delle diverse squadre che lavoravano i due edifici ancora in costruzione si erano trovati tutti riuniti come il sabato precedente non potevano non riprendere il discorso anche se non c'era il padrone anzi a maggior ragione il vecchio renzoni disse qui figlioli se qualcuno non ci mette riparo sa Dio come va a finire pescetti ha ragione a certa gente sembra non sia andata mai bene come ora nemmeno durante Firenze capitale c'era tanto lusso per dirne una ieri ero sui lungarni e durante la passeggiata dalle cascine non ho mai visto tanti landò come va allora dico io che il pane aumenta un giorno dopo l'altro che aumenta tutto e le nostre paghe restano le medesime di dieci anni fa se è per via del Dazio lo levino e diano un po' del loro per risolvere la situazione o vogliono che questi giovani che hanno famiglia vadano alla disperazione come quei poveri contadini giù nel tacco loro li mandano i soldati i carabinieri sparano legano buttano in galera e credono ad aver tutto bello e sistemato qui è question di fame è questione eppure una maniera per farglielo capire bisogna ci sia o non si accorgono che è nel loro interesse come quando si trattò di rizzare la statua della bilancia in piazza Santa Trinità anzi la colonna ora mi sbagliavo ma come si disse quello più vino agli uomini e meno acqua alle corde cosa bisogna fare per metterglielo nella zucca turati alla camera non gliele manda dire e dietro queste cose noi presi alla gola si cerca a volte di scioperare ma che no è non la intendono cosa gli si deve fare eh quinto pallesi tritava tra pollice e indice la spuntatura di tabacco e caricava la pipa io lo so è da un pezzo e tu la mia opinione la conosci siete voi che non lo volete capire come loro ma almeno loro fanno i loro interessi sarebbe a dire chiese Renzoni gli altri zitti in cerchio attorno al fuoco di fronte e di spalle li ascoltavano quinto accese la pipa e disse stammi a sentire di anzi appena sveglio la mia donna preso a rappresentarmi il problema dei topi ci si aveva un topo in casa che secondo lei non ci lasciava dormire aveva messo la trappola e tutte le volte il topo si era mangiato anche il cacio mentre lei me ne parlava la mia figliola le ha detto mamma l'ho sentito muovere sposta al cassettone hanno spostato il cassettone il topo è venuto fuori e la mia figliola con la granata lo ha fatto secco sarebbe a dire ripete Renzoni quinto sorrise aveva uno sguardo di bontà e di fuoco dentro gli occhi ero un uomo più anziano e tuttavia sembrava un giovanotto che si burlasse con non celata soddisfazione di una persona in lacco gli anni e lenta di cervello disse è una parabola no non sei mai stato amessa tra poco non dubitare legalitario oggi legalitario domani il tuo turati ti consiglierà anche questo ma né Renzoni né nessuno degli altri potè interloquire era arrivato l'ingegnere e con lui era cessata la pioggia su ragazzi su è finito forza ricordatevi grido madì perché la sua voce arrivasse in ogni angolo della tettoia del cantiere è scaduta mezz'ora no intervenne l'ingegnere consideriamola come lavorata cerchiamo di cominciare bene la settimana piuttosto ricordatevi che sabato si deve essere arrivati a coprire il tetto tempo per metello disse Renzoni non ci si capisce più nulla nemmeno con lui viene una bufera e poi schiarisce subito come d'estate sembra marzo e fa un gelo metello si avviò con la sua squadra vide pallesi che dava una spinta ma affettuosa al vecchio Renzoni lo vide di spalle mentre saliva sua volta per la scala del fabbricato di rimpetto trascorsero così due ore sarebbero state le dieci le dieci e un quarto metello affondava la cazzuola nella calcina quando sentì un urlo che durò un baleno e fu seppolto dal tonfo di un corpo andato a schiacciare sulla massicciata quinto pallesi era precipitato dall'impalcatura qualche minuto dopo l'avevano sollevato e portato sotto la tettoia disteso su una porta lo sorreggevano alla nuca il sangue gli colava di sotto l'attaccatura dei capelli e gli si spandeva sul viso non riparavano a tamponarlo il suo sguardo era sempre vivo balenante più che di dolore di collera sembrava respirava fatica gli riunirono le gambe e dette un grido ansimava diceva mi è venuta a mancare la ringhiera non ho fatto in tempo a riprendermi adesso era metello che stando in ginocchio gli teneva la testa e gli tamponava il sangue dall'altro lato c'era l'ingegnere no non ce l'ha non ce l'ho con lei ansimava quinto non ce l'ho con nessuno il legno è semfracidito o la giuntura ceduto ero io che ci dovevo badare la pelle è la mia digrignò i denti per il dolore volse la testa e incontrò lo sguardo di metello sembra bozzargli un sorriso hai visto gli disse non ci siamo mai conosciuti bene come mai ansimava e le sue parole erano già diverse se non avesse piovuto sono anche scivolato con l'asciutto mi sarei agganciato si agitava portatemi all'ospedale fate presto sono andate a chiamare la misericordia stai calmo gli disse l'ingegnere che aveva la faccia con l'orfango e pareva gli si inumidissero gli occhi andate anche a casa mia subito subito fatevi venire tutti all'ospedale anche i ragazzi mi raccomando Armanda Insilia e anche il bambino fate venire anche Carlo tutti e tre la mamma e i due ragazzi Armanda Ersilia Carlo Armanda Ersilia Mer le governo e già ora delirata delirata grazie a tutti